La differenza sia la maniera migliore per togliere a tutti la voglia di svolgere. E' chiaro che più noi ne parliamo e più noi si sentono in guerra. Io penso che se riuscissimo ad essere un'unica, sicuramente anche fino a parte non sentirebbe la voglia o il governo di fare. Quindi in differenza anche dalla macchia dell'arbitro? In differenza da parte di tutti, per una partita che noi li consideriamo.